Mattinata di audizioni, oggi in Commissione Vigilanza, al centro dell'attenzione dei consiglieri il tema sanità. Le maggiori novità riguardano il problema dell'indenità dei medici di continuità assistenziale, sul quale è stato ascoltato l'assessore Silvio Paolucci. A fare il punto della situazione è il presidente Mauro Febbo. C'è questo impegno da parte dell'assessore Paolucci che ci ha annunciato in Commissione di un provvedimento di sospensione dell'attività iniziata dalle alze di richiesta di rimborsi per poi verificare con più attenzione tutte le varie problematicità. Credo che era un provvedimento che si poteva fare prima, d'altronde il Consiglio regionale aveva già approvato la mia risoluzione, sottoscritta anche da altri colleghi, per sospendere quel provvedimento perché parliamo di un accordo decendrato che parte dal lontano del 1998, riconfermato nel 2006 e quindi credo che c'erano tutti i presupposti per cui ci fosse la legittimità di quel provvedimento. La Commissione ha poi sentito Alfonso Mascitelli, direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Abruzzese, e Germano De Santisi del Dipartimento Regionale Welfare sulla situazione degli ospedali di Atessa e Guardia Grele. Su Atessa, come già è stato verificato dal verbale tra un minuto raggio, ci sono ancora documenti che devono essere presentati e io credo che una delibera di novembre debba avere già un certo percorso, invece mi sembra che stiamo ancora indietro. E per quanto riguarda Guardia Grele è la cosa ancora più grave perché c'è una risoluzione votata in unanimità, quindi dallo stesso Presidente D'Alfonso, dallo stesso Assessore, e a questa risoluzione nessuno ha dato seguito, cioè nessuno ha mandato l'invito agli uffici, alla direzione della sanità e soprattutto all'Agenzia Sanitaria di attuare una serie di tavoli e di studi per poter arrivare alla dichiarazione o alla deliberazione di area disagiata anche per l'ospedale di Guardia Grele.